La terza intifada Solo nelle ultime ore 5 persone sono morte in 3 attacchi a Tel Aviv in Israele e in Cisgiordania Nel primo attentato 3 israeliani sono stati accoltellati, dei quali 2 sono morti, il terzo è gravemente ferito Secondo la polizia israeliana l'aggressore che è stato catturato è un palestinese di 24 anni proveniente da Ebron In Cisgiordania sono stati invece colpite 6 persone in un agguato nell'insediamento ebraico di Gushetion Hanno perso la vita un israeliano, un turista e un palestinese di passaggio L'attentatore è stato ucciso Poche ore dopo un israeliano è stato accoltellato al valico di Reyyan nella Cisgiordania settentrionale L'assalitore è stato catturato Chiunque condanni gli attacchi in Francia deve condannare quelli in Israele È lo stesso terrore, chi non lo fa è un ipocrita e cieco Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu Dietro questi atti di terrorismo ha aggiunto c'è l'Islam radicale che cerca di distruggerci Lo stesso che colpisce Parigi e minaccia tutta l'Europa Ma c'è chi lo smentisce, non è un palestinese Ma è l'israeliana Nurit Peled Helhanan Docente universitaria, scrittrice e attivista contro l'occupazione in Palestina L'intifada è fatta da ragazzini che non riescono più a sopportare l'oppressione di Tel Aviv Ci racconta in Israele si educa al razzismo, non alla pace Sentiamo Il problema non è l'intifada, il problema è l'oppressione Nurit Peled Helhanan non è l'unica a considerare quanto sta accadendo tra Israele e Palestina dal punto di vista di chi subisce l'occupazione ma stupire il fatto che lei abiti dalla parte di chi occupa Nata in Israele un anno dopo la sua fondazione nel 1949 la Peled, scrittrice e docente universitaria, ha perso la figlia a tredicenne nell'attentato suicida di un giovane palestinese nel 1997 Entrambi sono vittime dell'occupazione israeliana della Palestina, dichiarò in quei tragici momenti Da allora, andando contro alle dinamiche di morte e vendetta che da decenni regolano i rapporti fra israeliani e palestinesi è diventata un'attivista contro l'occupazione di Tel Aviv in Cisgiordania e per la liberazione della Palestina Vincitrice di molti riconoscimenti internazionali, tra cui nel 2001 il premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero è stata nominata Donna per la pace dal premio Semplicemente Donna Harmony Award In una lunga intervista rilasciata a TSD critica duramente il proprio governo responsabile di quello che lei definisce uno stato di terrore Quella che voi chiamate intifada dei coltelli, ci racconta, è costituita da ragazzini che non ce la fanno più Sono la seconda generazione nata nell'oppressione, per questo lanciano sassi ai soldati senza che nessuno si faccia male Non ho mai visto un coltello, ma anche se fosse, cosa significherebbe? Il mondo non si sta rendendo conto di quello che accadde a Gerusalemme, sostiene la Peled La città simbolo della Terra Santa è stata stravolta I palestinesi sono costretti ad abbandonare le proprie case e al loro posto si insediano i coloni ebrei spesso non israeliani, ma provenienti dall'America o da altri paesi Le imprese stanno chiudendo e l'attività culturale è praticamente scomparsa Gerusalemme Est sembra diventare un unico spaventoso insediamento Io penso che quella che è considerata l'unica democrazia del Medio Oriente non lo sia affatto, non lo è mai stata Questo è un punto di non ritorno Guardate adesso, dopo Parigi, ognuno di noi ha paura che chiunque possa lanciare una bomba Ma nessuno era così preoccupato quando Israele ha lanciato migliaia di bombe nel luogo più affollato al mondo, Gaza La Peled torna più volte sulla questione dei bambini vittime del conflitto In Israele spiega non c'è educazione alla pace ma istigazione al razzismo I cittadini palestinesi in Israele non hanno gli stessi diritti degli altri L'educazione giustifica questo stato di cose proprio attraverso il razzismo Sostenendo che essi sono inferiori, incapaci, che non pagano le tasse Vengono considerati negativamente senza distinzioni All'interno della stessa popolazione ebraica c'è razzismo Soprattutto verso coloro che provengono da paesi arabi come gli etiopi Considerati cittadini di seconda classe Nessuno conosce l'antica cultura di chi proviene da Marocco, Algeria ed Iraq Non ne sappiamo nulla, come se non fosse mai esistita E la cosa peggiore è che questo razzismo arriva dall'alto È creato ed incoraggiato dal governo, dal Parlamento e dalle sfere più alte della società E da lì scende fino ad arrivare nelle strade Un quadro estremamente pessimistico, quello dipinto dalla Pellet Che lascia poche speranze ai percorsi di pace Quando ogni famiglia avrà pagato il prezzo, si inizierà a riflettere È una profezia estremamente triste Questo è una profezia estremamente triste E da una ricostruzione che procede con lentezza L'apertura del Giubileo della Misericordia Indetto da Papa Francesco, dice Padre Mario, è per i cristiani di Gaza come un bicchiere di acqua fresca per l'assetato Un tempo di verifica e di impegno per proseguire con coraggio sulla strada tracciata dal Vangelo Un mosaico romano del IV secolo è stato scoperto da un gruppo di archeologi nella città di Lod in Israele Durante i lavori per la costruzione di un centro turistico che valorizzasse un altro mosaico scoperto due decenni prima nella stessa posizione Il nuovo ritrovamento misura 11 metri per 13 ed appartiene alla corte di una villa in un quartiere benestante esistito in epoca romana e bizantina L'autorità israeliana per le antichità lo ha definito mozzafiato e tre più belli in Israele Ed è tutto per questa edizione, l'appuntamento con la Terra Santa al Medio Oriente torna come sempre la prossima settimana Arrivederci Arrivederci